e rispondono i canali storici le armature siano allacciate correttamente per fare in modo che non si possano essere indesiderati infortuni manciulli, manciulle vi ricordiamo che tutto è fatto in estrema sicurezza signore e signori sono pronti, facciamole un grande applauso l'Italia del Regno Unito alla pugna Go UK! Go UK! Go Brian! Go! 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 Grazie a tutti.